31 marzo il vostro cuore non sia turbato abbiate fede in dio e abbiate fede anche in me nella casa del padre mio vi sono molte stanze se no ve l'avrei detto io vado a prepararvi un luogo giovanni 14 14 non turbatevi la parola di dio dichiara è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola ebrei 9 27 è scritto anche preparati ad incontrare il tuo dio amos 4 12 tutti sappiamo molto bene nonostante ogni possibile ostentazione che nessuno da se stesso si dispone volentieri ad incontrare la morte anche la scrittura lo conferma autorevolmente quelli che per timor della morte sono per tutta la vita soggetti a schiavitù ebrei 2 15 tutto questo però non ci deve turbare se abbiamo gesù nel cuore e inoltre possiamo dire come scritto la morte è stata sommersa nella vittoria perché gesù l'ha vinta per noi 1 corinzi 15 55 chi accetta gesù nel proprio cuore e per l'azione dello spirito santo viene rigenerato ravvedendosi dei propri peccati ottiene in dono la vita eterna e realizza la vera felicità la gioia della salvezza